Dobbiamo giocarla in profondità. Vinicius Junior si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Preferisce il retropassaggio. C'è il tiro! Su Mario di Bacarolo! Il divario tra le due compagini oggi è veramente notevole e questo risultato ne è testimone. Ne stanno approfittando tutti per migliorare le proprie statistiche Fabio. Certo, se gli avversari non gli mettono i bastoni tra le ruote, non è colpa loro. Dopo 85 minuti è... Jetson! 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 Jetson!